Piazza 20 Settembre gremita ieri pomeriggio per celebrare la medaglia d'oro di Daniele Molmenti. A presentare l'evento, organizzato dal comune di Pordenone, è stato il duo comico Papu, che ha intrattenuto l'intera piazza con brevi scenette comiche, fino al fatidico e tanto atteso arrivo del campione olimpico. Questa medaglia qua doveva arrivare forse già a Pechino, ma non ero maturo io, quindi è stata una rincorsa a questa prestazione che è arrivata a Londra il giorno del mio compleanno, tra l'altro, quindi insomma c'erano tante cose che stavano ben assieme. Cosa dire, è l'obiettivo di tanti anni di lavoro, è stato raggiunto e adesso mi godo un po' questa festa. Sono sempre stati vicini, anche quando ho perso a Pechino, negli ultimi 4 anni mi avete sempre seguito, tutti mi chiedono adesso a Rio, sono 4 anni, è difficile perché insomma è tanto lontano. Comincerò stagione per stagione, i prossimi anni ci sono i mondiali, dopo ancora i mondiali che sono sempre una bella medaglia e se poi sto bene fisicamente perché no, servono motivazioni, a Rio ne ho trovate tante. Questa sera abbiamo pensato che dovesse essere una festa che in realtà era iniziata ancora prima con la presentazione del Blues Festival, ma doveva avere qui, questa sera, in piazza il suo grande momento, con la musica, la partecipazione di tutto e dare proprio a lui e a Daniele la possibilità di parlare, tirare sul palco i suoi amici, insomma condividere quasi in un clima da salotto di casa la felicità per un risultato così eccezionale.